Ecco bene, di nuovo con il mister Roberto Gioia qui a Formia, terminato con l'anamento di oggi giovedì, quindi pronta la squadra perché salta a battaglia, mi sembra che la sua gestione si può dire che è comunque positiva, la classifica si sta incrementando, si sta vicinando alla zona appunto più tranquilla. Sì, dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare come stiamo facendo, ci sono tutti i margini per lavorare, per fare sempre meglio, quindi dobbiamo solo continuare su questa strada. Hai messo chiaramente alla squadra che attivare è giusta quando entrano in campo, quindi una squadra che mi sembra che anche a Terracina ci ha chieduto fino alla fine, si è portata a casa i tre punti. Sì, domenica a Terracina buona buona partita dei ragazzi perché il campo non permetteva sia da parte nostra che da parte del Terracina, quindi abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo lavorato tanto sulle seconde palle e ripeto i ragazzi sono stati bravi perché poi alla fine hanno lottato per cercare di portare a casa i tre punti che per noi erano importantissimi, ci sono riusciti quindi bravi a loro. Questo mercato di riparazione che ti ha fatto la stacità ti può essere utile chiaramente, immagino no? Sì, stiamo inserendo piano piano tutti, chiaramente sono arrivati un po' in ritardo di condizioni però stiamo lavorando anche su questo, Arcangelo Domenica ha giocato, Ragosta ha giocato a Terracina, ha fatto 70 minuti buonissimo, quindi Cussano la stessa cosa, piano piano lo stiamo inserendo. Diciamo che siamo bene così. Terracina come l'hai visto? Chiaramente avendo perso? No, buona squadra. Immagini che sia una buona squadra? Assolutamente sì, è una buonissima squadra, lo sapevamo, hanno preparato la partita in maniera ottimale, ripeto siamo stati bravi noi perché dopo la partita di Coppa, dopo la vittoria, dopo i festeggiamenti non era semplice andare lì e fare la prestazione che hanno fatto i ragazzi, quindi ripeto di nuovo veramente complimenti ai ragazzi. Infatti risultati dopo risultati chiaramente la squadra si carica, domenica arriva il Vicovaro che è comunque una squadra chiaramente da temere perché comunque non perché abbia vinto a Monte San Biagio ma perché comunque è in fase di crescere. Sì, col mercato di riparazione il Vicovaro non è quello dell'andata, quindi quello che già ho detto ai ragazzi ma ne parleremo anche sabato mattina, se guardiamo la classifica rischiamo di farci del male, quindi l'ultima cosa che dobbiamo andare a guardare è la classifica. Sappiamo che è una buonissima squadra, sappiamo i loro punti di forza e quindi dobbiamo essere bravi a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso da qualche settimana. Come si presenta la squadra per domenica fisicamente parlante? Abbiamo qualche acciaccata ma quelli non mancano mai, qualcuno starà fuori, però quelli che andranno in campo sono sicuro che faranno una grossa partita. D'accordo, mi sembra che è tutto, in bocca al lupo domenica. Crepe.